Sono tornati a Gubbio gli affreschi di Ottaviano Nelli, provenienti da Palazzo Beni, ma facenti parte fino agli scorsi giorni della collezione Cagnola Gazzada di Varese, dopo l'acquisto di essi nei primi anni del Novecento da parte di uno dei discendenti della famiglia, mosso dall'intento di salvaguardare il patrimonio artistico italiano. La firma dell'atto di consegna è stata siglata alla presenza del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, e di Monsignor Eros Monti, responsabile della fondazione Cagnola, un'operazione virtuosa condotta dall'amministrazione comunale con gli ex assessori Oderisinello Fiorucci e Giordano Mancini, con la quale si arricchisce il patrimonio artistico e culturale della città e che ha previsto un investimento di circa 60 mila euro. Significa riacquisire in una città che tanto ha perduto nel corso dei secoli, soprattutto nel XIX secolo, dei beni culturali che le ridanno ancora più forza e ancora più attrattività. Poi lo facciamo in un anno speciale nel quale procediamo a delle iniziative espositive in collaborazione con la città di Fabriano, che hanno un significato di grande rilancio e di ripresa della città anche in termini promozionali, e significa che in questo progetto dedicato al Nelli riacquisire le poche opere peraltro laiche, insomma, quelle dedicate a un grande palazzo nobiliare come Palazzo Beni, credo che rivesta veramente un grande successo e anche un grande dono, una grande restituzione che facciamo alla nostra comunità. Anche per noi rappresenta un'ottima occasione. Siamo contenti sia per questo ritorno appunto nella sede originale di questi quattro affreschi del Nelli, ma sia perché sarà un'occasione anche di approfondimento, di studio, permetteranno di essere conosciuti da più persone, proseguiranno appunto gli studi di un autore molto interessante del primo 400 e permetteranno appunto, ci auguriamo, ecco molti di poterli apprezzare. Gli affreschi in cui trova rappresentazione un vasto ciclo profano di vizi e virtù con le figure dell'umiltà, della liberalità, della vanità e della fortezza, opera di Ottaviano Nelli, probabilmente nel 1424, occupavano quattro pareti di una delle stanze di Palazzo Beni. Da essa sono poi stati strappati e disposti su di un supporto ingesso che oggi richiede la sostituzione in un intervento particolarmente complesso. Di noi procederemo con la sostituzione di questo supporto con un nuovo supporto più idoneo e poi si procederà agli interventi di restauro sulla pellicola pittorica. Verrà rimossa la velinatura di protezione, verrà fatta la pulitura della pellicola pittorica, la stuccatura delle lacune e il restauro pittorico. Naturalmente con il restauro pittorico i dipinti riacquisteranno la loro originale cromia e la loro originale bellezza. È un intervento complesso, molto delicato, che va fatta con molta attenzione perché andremo ad intervenire sul retro della pellicola pittorica avvicinandoci molto alla pellicola pittorica e quindi bisogna intervenire con molta cautela. I tempi sono lunghi, però noi dobbiamo realizzare questo intervento per i primi giorni del mese di settembre.